Mi chiamo Nello Scagliotti, abito a Camagna, Monterrato, piccolissimo paese, ma un paese molto particolare, a partire dalla nostra bellissima chiesa con una cupola stupenda dell'Antonelli, quindi dall'alto al basso, quindi si parte dalla chiesa, dall'alto della cupola per andare sottoterra, negli infernoti, infernoti particolari perché a Camagna tutte le case ne hanno uno, quindi dall'alto ai 10 metri sottoterra dove potremo anche assaggiare ad aprire una buona bottiglia di vino e fare un brindisi tutti insieme, quindi vi aspetto volentieri, sarò contento e felice di ospitarvi, grazie.